Un parco di 8500 metri quadrati realizzato da Bologna Fiere e dedicato alla biodiversità e in particolare a quella agraria. È quello offerto da Expo agli oltre 20 milioni di visitatori che avranno l'opportunità di scoprire, conoscere e sperimentare i grandi temi legati all'alimentazione del futuro. Due i grandi ambienti su cui si sviluppa, uno esterno tra paesaggi della biodiversità italiana e uno interno tra le esperienze del mondo biologico. Realizzeremo qui con Expo una grandissima area tematica dedicata alla biodiversità, al parco della biodiversità. Sarà un grandissimo giardino innanzitutto che presenterà gli ambienti della biodiversità italiana, i paesaggi dalle Alpi fino alle coste del Mediterraneo. Ma per avere prodotti di qualità occorre che anche l'ambiente sia di qualità. Spesso il nostro paese viene ricordato solo per i disastri ambientali o l'inquinamento. Ecco perché l'Expo può e deve essere l'occasione per sottolineare quanto di buono c'è, a partire proprio dai prodotti della nostra terra. Questo deve essere l'occasione nel quale tutto il mondo deve sapere che in Italia ci sono prodotti sani perché c'è un ambiente sano. Non a caso noi abbiamo fatto una battaglia europea molto forte contro le coltivazioni di OGM, degli organismi geneticamente modificati, perché noi siamo diversi dagli altri.